Nel corso della storia, una lunga storia, la Russia ha tentato diverse volte di dividere l'Occidente. Una delle costanti geopolitiche in quell'area è l'idea che questa grande potenza asiatica e per un pezzo europeo non debba avere ai suoi confini occidentali nulla di forte, nulla di significativo e quindi ha sempre provato ad avere dentro ciascun paese che sta dalla parte occidentale, quindi noi europei, delle quinte colonne, delle componenti politiche o culturali che lavorassero a dividere e indebolire l'Occidente. Beh, ciascun di noi se ne ricorda, io ho 62 anni, ci sono cresciuto nell'Europa e nell'Italia in cui c'era il forte partito comunista italiano che era finanziato dall'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica era la forma che aveva preso Federale dopo la rivoluzione d'Ottobre, ma sempre Russia era, la geopolitica non cambia con le stagioni o con i regimi politici. Da parte occidentale c'è stato quindi spesso un gruppo di volontari, diciamo così, all'indebolimento ed oggi l'Occidente si presenta molto unito, molto compatto ed è la ragione per la quale l'operazione di aggressione all'Ucraina è comunque destinata alla sconfitta. Eppure ci sono forze che provano a dividere e indebolire cercando le ragioni della Russia. Putin ha delle ragioni. La più forte di queste tesi è quella secondo la quale, cosa volete che faccia? Reagisce dal fatto che la NATO, l'Alleanza Difensiva Occidentale, gli è arrivato fino in casa laddove era stato dato assicurazione che questo non sarebbe mai capitato. Ma veramente le cose saranno così? Tutto nasce da una desecretazione che è stata ripresa dal settimanale tedesco Spiegel di un documento che dimostrerebbe questo. Lo ha desecretato la Russia? Lo hanno messo in giro loro? No. Lo ha desecretato un archivio inglese ed è un documento del marzo del 1991. Non è un trattato, non è un accordo, non è niente. È un verbale di riunione. Marzo 1991. In cui dei diplomatici, rappresentanti anche la NATO e l'Occidente, convengono su questo. La NATO non si sarebbe dovuta espandere a est. Ma non è un trattato. In compenso c'è un trattato del 1994, vero, firmato, bollato, protocollato, che quando si denuclearizza l'Ucraina, perché prima era Unione Sovietica, e poi dopo diventa stato indipendente, si trovano lì dentro le armi nucleari sovietiche. E allora i russi riprendono le armi, si firma un accordo, l'Ucraina viene denuclearizzata, ma le parti, una e la Russia, si impegnano a tutelarne l'incolumità dei confini. Loro hanno, Putin ha violato quell'accordo. E non è il caso, ma c'è quella riunione del marzo 1991. Sì, peccato che a dicembre del 1991, marzo 1991, dicembre del 1991, crolla l'Unione Sovietica. Non c'è la Russia che parla nel marzo 1991, perché non esiste. E il corno dell'Unione Sovietica non fa sì che ci sia un sinonimo Unione Sovietica adesso è Russia. No, perché l'Unione Sovietica comprendeva un numero notevole di stati che diventano indipendenti. Quindi semmai bisognerebbe rinovellare, ma non c'è nulla da rinovellare perché non c'è mai stato d'accordo. E comunque, la Polonia, che è ex patto di Varsavia, blocco dell'est, entra nella Nato nel 1999. E questa sarebbe la prova che Putin ha ragione. Vedete, la Nato mi è arrivata in casa perché è arrivata con la Polonia. Per la vita non era a casa tua con la Polonia. Avevi già provato a prendertela all'Unione Sovietica nell'accordo Motov-Ribbentrov tra Hitler e Stalin. Comunque sia, era nel patto di Varsavia, adesso si trova nella Nato. Questa sarebbe la cosa che giustifica Putin. Ma se nel 2002 Putin in persona partecipa a un patto di fratellanza, amicizia e collaborazione con la Nato, pratica di mare, ospite in Italia, fotografie con Bush e Berlusconi strette di mare, che non lo sapeva che nel 99 era entrata la Polonia nella Nato, lo sapeva ma non lo considerava un elemento di accerchiamento. E quindi questa tesi è una palla colossale. Com'era una palla colossale la grande potenza economica dell'Unione Sovietica, l'avanzamento scientifico dell'Unione Sovietica, l'Unione Sovietica che conquisterà lo spazio, è crollata miseramente nella miseria dopo aver negato la libertà. la stessa fine che farà Putin.